ciao a tutti amiche ed amici benvenuti e bentrovati al momento in cui registro questa intro ho già fatto ecco le stese allora ancora non so il titolo che metterò ecco al video facciamo una lettura ecco personale mi sentivo ispirata da te che ho lasciato perdere tutto quanto dico aspetta un attimo che faccio ecco le stese quindi è come se avessi sentito un richiamo una intuizione quindi penso che questa lettura possa essere importante per per voi o per qualcuno ecco in particolare ecco tra voi fatemelo sapere nei commenti alla fine del video che cosa vi risuona ecco di questa stese in ogni caso penso che possa contenere un messaggio sicuramente anche lì dove le situazioni non sono esattamente ecco esattamente diciamo ecco come dire ecosartoriali diciamo così anche perché ripeto convogliano comunque con molte energie detto questo ecco vi invito ad iscrivervi al canale vi ricordo anche che al raggiungimento di 10.000 iscritti si aprirà un contest nel canale con la quale vi potrete aggiudicare uno o due consulti personali a secondo ecco della della vostra partecipazione poi ci sarà anche in questo senso un festeggiamento nella quale ecco perlomeno chi parteciperà ai festeggiamenti riceverà in questo senso anche una sorta ecco di bomboniera dono da parte mia perché le cose belle ecco vanno festeggiate con la propria community con la propria ecco family la luna rossa family allora va bene io parlo al femminile perché per il mio genere mi identifico con la consultante ma ovviamente la lettura come sapete vale sia per gli uomini che per le donne sia che voi siate etero che arcobaleno e basta direi che possiamo iniziare e quindi buon ascolto un bacione ciao allora vediamo un po come stanno ecco le cose allora in amore vediamo un po prima di tutto un passato o recente passato cosa arriva qui con queste carte ma cosa si vede qui qui abbiamo un cavaliere di spade potrebbero qua fondamentalmente la prima cosa ecco che ci rappresenta questa carta è che in passato c'è stato un bel po di nervosismo una certa impulsività probabilmente anche pensieri come dire ecco autosabotanti oppure sai ma nemmeno autosabotanti sai quando una persona pensa male e reagisce impulsivamente e quindi volano parole pesanti praticamente no e si diciamo ecco prima sono volate parole pesanti e poi probabilmente c'è stato anche un blocco una fuga un ok tu di là e io di qua quindi questo è quello che è successo in passato perché è successo questo è perché credo che insistessero molto allora i sentimenti c'erano qua mi dicono le carte però forse venivano rinfacciate delle modalità del rapporto o si volevano praticamente così delle prove delle prove delle prove sai quando uno dice voglio capire se questa persona mi vuole bene davvero tanto quanto gli voglio bene io se interessata a me così tanto quanto sono interessato io perché io devo capire praticamente che valore dare alla relazione voglio capire come sto investendo me stessa il mio tempo me oppure niente vado avanti penso per me diciamo ecco forse anche qualcosa legato se vogliamo una certa insicurezza qua abbiamo ecco un appeso no cioè si vede che un po c'era in questo retro pensiero ma anche è come se si volessero raggiungere questo stiamo parlando sempre del passato delle conferme come se si volessero avere delle conferme in un certo momento ok vediamo come stanno le cose attualmente vediamo come stanno le cose attualmente qui c'è il 9 di denari e c'è anche la luna alti e bassi direi momenti c'è una separazione in questo momento siete come dire ecco diciamo che avete preso delle strade diverse o comunque con non vi state vedendo ognuno si sta facendo vi siete allontanati fondamentalmente ci sono momenti in cui diciamo ecco state bene sicuramente ecco state bene non è che qua nessuno si sta tirando i capelli a dire la verità eh sì sì state pensando alle vostre cose state andando avanti certamente state andando avanti però qua c'è un problema qua c'è un problema che il sentimento non si è spento allontanamento cioè questo allontanamento non ha determinato hai presente lontano dagli occhi lontano dal cuore eh questo non c'è stato questo non c'è ancora ad oggi non c'è un lontano dagli occhi lontano dal cuore e questo provoca una certa instabilità lo vediamo con questa luna nel senso che dice perché io mi sono allontanata mi sono allontanato e qua ancora mi sento così ancora sento come dire ecco non capisco perché mi sento ancora così non capisco perché perché vediamo perché non capisco perché ecco vedi qua 4 di 4 di spade e il papa ecco non capisco perché non sono totalmente guarita come se pesasse ancora senza la parola peso è ancora non c'è stata qua nessuno si è dimenticato di nessuno anzi qui c'è anche il il papa cioè significa che comunque ecco vedi ancora si sente forse probabilmente anche una certa connessione se vogliamo no può darsi che per qualcuno di voi qua ci sia un problema sì legato ad una giustizia e forse il blocco abbiamo guarda due arcani maggiori la giustizia e l'appeso no perché magari ecco vedi la situazione è rimasta in stallo quindi probabilmente le cose non si sono chiarite non si sono messe in chiaro quelle cose anche che possono essere stati dei malintesi e quindi non essendoci stata in questo senso un'evoluzione è anche una ognuno si è fatto i suoi film per dire no e questo significa che non si conosce la verità si è rimasti in qualche modo ecco imprigionati in questi dubbi quindi il motivo per cui questa totale guarigione non c'è stata è dipeso proprio da questo dipende ad oggi da questo qui abbiamo anche il re di bastoni cioè qualcosa è collegato anche alle responsabilità a rivedere a rivedere quello che è successo ecco nel passato a ripassarsi letteralmente ecco momenti giorni felici infelici soprattutto i momenti quelli che sono stati tra virgolette ecco più tossici e i problemi legati a come si è vissuto l'amore a cosa ci si aspetta dall'amore e anche e anche se vogliamo diciamo anche il fatto di volere o quello che si voleva con una forte determinazione diciamo ecco conquistare perché comunque il 6 di bastoni è carta che parla di vittoria di fare progetti ma un po è anche una carta che parla di cambiamenti perché sapete quando una persona per dire c'è la carta precedente il 5 di bastoni dove c'è una competizione dopo la competizione c'è questo 6 di bastoni che è la vittoria quindi qualcuno che riesce a prevalere rispetto a quella competizione cioè è come se ci poteva essere no un pochetto di insicurezza l'abbiamo vista è in un modo in un altro comunque si è voluti arrivare alla meta di con o senza di lui o senza di lei io voglio avere le mie conferme in realtà le conferme non ci sono state in ogni caso perché al determinate verità dal punto di vista ecco sentimentali qua non c'è arrivato questo qua vediamo quali sono i suoi sentimenti al presente abbiamo visto che in passato c'era questo bellissimo asso di coppe vediamo oggi quali sono i suoi sentimenti per te qui arriva una carta anzi due carte ok c'è la morte gli arcani maggiori abbiamo la morte e la forza di cosa parla questa morte che comunque è carta che parla di trasformazione 7 di coppe ok allora guarda guarda onestamente qua le cose sono in una fase come dire ecco di trasformazione le cose rispetto a prima in effetti c'è stata una morte proprio una crisi cioè come posso dire è presente quando uno comunque qua arriva comunque una tappa arriva comunque co a a un punto da questo punto in poi da questo punto in poi che è proprio questa morte ecco c'è attualmente un cambiamento una trasformazione una evoluzione una metamorfa ora questa metamorfosi ha a che vedere anche tra le tante varie cose prima di tutto qua abbiamo cioè è molto importante questa trasformazione perché noi abbiamo comunque due arcani maggiori qui abbiamo la ruota della fortuna abbiamo anche l'imperatore quindi vedi ha a che vedere col fatto che qui se qualcuno si è illuso via illuso è fondamentalmente potrebbe essere vedi ecco una persona che qua abbiamo un cacciatore con con le teste diciamo ecco delle sue prede no quindi probabile che questa persona si stia rendendo conto di dover cambiare di dover chiudere o che questo tipo di atteggiamento che ha avuto in passato con voi non sia molto funzionale sicuramente ecco perlomeno a quelli che possono essere i suoi sentimenti no quindi si vede che questa persona vorrebbe anche cambiare le cose no c'è molta passione questo te lo devo dire c'è ancora un attaccamento una passione abbiamo infatti abbiamo l'asso di coppe quindi sentimenti ci sono sono ancora vivi passione amore attaccamento c'è tanto però questa forza insieme anche una forza come dire ecco mi devo tenere mi devo dominare ce la devo fare ce la devo fare però allo stesso tempo questa persona sta vedendo che tutto questo ancora c'è insiste persiste vedi questa trasformazione a che vedere torno indietro perché ok sentimenti ci sono lo stiamo vedendo sono anche molto molto profondi o perlomeno più che profondi intensi questa persona è come se si sta rendendo conto e questo quello che sta cambiando che magari ecco o via illusa e contemporaneamente sia illuso vi ha trattato un po con un atteggiamento predatorio se vogliamo no e e quindi ha capito e sta capendo che questa cosa non va bene ecco qua il karma però anche capito che questo atteggiamento predatorio l'ha portato a questa ad essere dove oggi quindi predatorio intendo dire anche con una persona come dire che che ha il piacere se vogliamo in questo senso ecco della caccia della conquista no allora vediamo i tuoi sentimenti nei confronti di questa persona ecco qua c'è il 2 di denari abbiamo il 7 di spade sta registrando sì abbiamo anche il fante di spade è il 5 di denari allora guarda i tuoi sentimenti c'è freddezza c'è molta freddezza ma anche se vogliamo ecco instabilità qua si vede anche da parte tua che in qualche modo c'è questa instabilità cioè come se tu dicessi non sono nemmeno importanti i miei sentimenti perché qua diciamo ecco il player non sono io non dipende totalmente da me qua c'è qualcuno che ha tradito la tua fiducia ti ha ingannato ha fatto sicuramente messo in atto delle comportamenti come dire poco specchiati disonesti non corretti sicuramente nei tuoi confronti o poco allineati diciamo all'amore all'atto pratico per cui qua c'è come dire la consapevolezza di questa che tu ormai ritieni una verità tu questa cosa l'hai vista l'hai la percepisci e la legge ormai così per cui non ti interroghi sui tuoi sentimenti o non vuoi coltivare i tuoi sentimenti ci sono a volte questi momenti come dire ecco che ti senti un po così un po un po un po verso è un po ritirata quella persona ma fondamentalmente c'è questa freddezza c'è proprio la freddezza del 5 di denari è legata al fatto che come dire ecco qua alla fine dall'altra parte non conta il mio sentimento conta il fatto che dall'altra parte c'è c'è questo ci sono le azioni disoneste ecco perché ecco perché ecco perché quindi c'è da parte tua sicuramente ecco nemmeno le ferite non è tanto quello ma la presa di coscienza la presa visione sai come quando uno va a chiedere come dire ecco ha letto il libro e sa come come fa sa quali sono i contenuti qui infatti abbiamo l'imperatrice e qui c'è l'imperatrice il 4 di bastoni e abbiamo ecco il 2 di spade insieme ecco al papa e il fatto è questo guarda che tu in questo momento sicuramente hai capito che devi volere bene di più a te stessa non puoi anteporre il volere bene all'altra persona al volere bene te quindi sei molto stabile su questo pensiero che te smuove per la serie no perché c'è bisogno in questo senso di una tua pace una tua serenità è come se tu dicessi io mi sento con la coscienza possa dire la verità perché non ho fatto come dire con nulla di male o ben chiaro come stanno le cose ecco dall'altra parte ho dato una lettura più che valida a quello che è successo ai comportamenti dell'altra persona che non sono stati buoni tra virgolette con i miei confronti quindi tu te ne stai a casa tua ti fai la tua vita e la tua stabilità le tue cose cerchi di stare bene ma anche di andare avanti perché comunque con l'imperatrice non è un'amica che si piange addosso no dice guarda tra stare con questa persona e soffrire io diciamo porto avanti quelli che sono i miei valori i miei spazi i miei comunque con la mia vita la mia vita sì sì c'è una come dire ecco non è sa viene la carta della vittoria ma come dire ecco comunque meglio oggi che non domani più o meno l'idea che ti sei fatta è questa quindi non ti interroghi molto su sui tuoi sentimenti c'è come se tu questi sentimenti li avessi in qualche modo ecco ghiacciati raffreddati per amore verso di te e non è che stai facendo male stai facendo bene allora vediamo qua gli aspetti positivi del rapporto gli aspetti positivi di questo rapporto allora qui c'è un giudizio qui c'è un re di spade e abbiamo anche l'imperatrice allora guarda ci sono sicuramente importanti aspetti positivi di questo rapporto perché c'è abbiamo nove di denari che una carta che parla di amore per se stessi perché in qualche modo ha portato abbiamo due arcani maggiori come dire ecco la avete realizzato o state realizzando che per stare in una relazione bisogna comunque ecco essere pronti primo per la relazione bisogna in qualche modo ecco anche avere un cuore aperto alla relazione capaci come dire ecco di avere quella flessibilità e quella elasticità tale da da reinventarsi praticamente no insieme all'altro ok quindi di considerare l'altro in qualche modo ecco una risorsa passatemi il termine però c'è un problema di fiducia capito che vi permette come dire ecco vedi qua c'è una partita a scacchi di di essere anche ecco più intelligenti più scaltri ma in generale rispetto a quelle che possono essere le vostre mosse in questo senso trionfanti ecco nella vita però è un rapporto come dire ecco che nell'amore questa è la lezione che state imparando non è annullo me stesso per stare con l'altro perché così c'è qualcuno con me nella mia vita e non sono solo o non sono sola no la lezione che avete imparato che è importante sicuramente in qualche modo ecco svolgere la partita svolgere la partita con delle regole perché sapete gli scacchi comunque ecco prevedono tantissime regole a seconda eh dei del tipo ecco di pedina adesso passatemi il termine ecco pedina che si usa no il il pedone dal fante ecco regina re si muovono tutti in maniera diversa allora quindi c'è avete chiaro questo c'è c'è chiaro questo quanto meno sicuramente da parte di questa persona che bisogna avere amore per se stessi perché eh questo amore per se stessi e quindi non annullarsi ecco per l'altro eh è esattamente quello che ti permette in qualche modo ecco di destreggiarti no all'interno ecco di una relazione ehm questo è stato un cambiamento assolutissimamente ecco importante perché evidentemente ecco magari entrambi nel passato questa cosa non l'avevate totalmente interiorizzata ossia che uno in funzione della dell'essere in coppia effettivamente deve sapere negoziare non deve annullare se stesso ok non si deve come dire ecco rispecchiare con l'altro e perdere la propria personalità allora vediamo quali sono gli aspetti negativi gli aspetti negativi allora qua abbiamo il 2 di bastoni 4 di bastoni e la ruota della fortuna fondo mazzo abbiamo 8 di tutte carte di bastoni a parte la ruota della fortuna beh l'otto di bastoni è una carta che parla di cose che avvengono con una certa rapidità no in modo frenetico quindi eh potrebbero essere proprio le reazioni eh troppo diciamo ecco rapide eh essere troppo reattivi no l'aspetto negativo è proprio legato a questo alla stabilità del rapporto al fatto che eh di dove ci sono ci possono essere state in discussione diciamo ecco delle scelte questo o quell'altro eh al fine diciamo ecco di una contesa stabilità del rapporto magari per quella persona era vissuta in un modo per te vissuta in un altro modo si è fondata probabilmente ecco su presupposti diversi diciamo la stabilità del rapporto davanti al bivio anziché ripeto ecco negoziare rapidamente si è chiusa la relazione diciamo ecco qui c'è stato il ribaltone quindi è anche una carta di karma se vogliamo ecco il la ruota della fortuna perché evidentemente anche uno schema ripetuto può essere successo una volta può essere anche successo ecco più di una volta quindi eh come dire ecco io forzo in qualche modo ecco il mio destino perché si deve fare come dico io qui tra l'altro abbiamo qualcuno con la tavola ouija mai utilizzare queste cose per carità ma anche qualche volta diciamo ecco sicuramente ecco ne parleremo magari nel video sui rapporti ecco animici sì sì qualche volta sicuramente ne parleremo quindi intanto vi dico questo già che ci siamo comunque legato allo spiritismo non utilizzate queste cose allora ma anche il pendolino ve lo dico già da adesso bacchette no non utilizzatele perché perché anche le meditazioni parliamoci chiaro anche le meditazioni c'è uno o è come dire co scafato in quel senso che conosce tutto il mondo eh come dire ecco invisibile eh oppure meglio che se ne sta nel proprio mondo e non va in qualche modo ecco a eh toccare punti virgole senza sapere eh effettivamente che cosa sta facendo di un aspetto e di una di un ambito eh nella quale non si sa muovere mh quindi meglio non fare queste cose secondo me questo come la vedo io perché poi eh sono tutti aspetti come dire ecco che possono aprire dei portali involontari a delle infestazioni larvali per questo motivo ok quindi semplicemente per questo quindi molto meglio eh diciamo ecco per quello che si rischia non farlo questo motivo allora detto ciò eh può darsi anche può darsi anche che proprio diciamo questa reattività dipende anche dal fatto che in qualche modo qua vedi le scelte sono legate qua si vede anche questa luna si vede questa tavola ouija come se in qualche modo ecco eh si volesse forzare una direzione in questo rapporto quasi a dire dice siccome io so che deve andare così forse me l'ha detto una cartomante forse me l'ha detto qualcun altro forse me l'hanno detto eh perché qualcuno si è fatto leggere la mano non lo so vedi tu quale può essere può essere il tuo caso come può essere anche il caso di questa persona eh eh che magari tipo che so qualcuno gli avrà detto ti tua moglie ti lascerà poi incontrerai una persona però questa persona quindi questa persona in sostanza magari quella prima parte sebbene la seconda parte la sta accollando a te per dire no allora eh quindi in qualche modo probabilmente questa persona può darsi che conosca degli aspetti del suo destino mh e quindi in funzione del fatto che eh magari è proprio stabilmente convinta che le cose nel suo destino siano in un certo modo perché magari ripeto una prima parte è vera sia cercando di forzarlo questo destino sia sia cercando in qualche modo ecco di 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 eh di dare come dire ecco delle sterzate ecco se vogliamo eh però poi alla fine si ritrova a ripetere sempre lo stesso schema karmico mh quindi magari con delle azioni scomposte quindi questa è la parte sicuramente ecco negativa allora vediamo un po' quali sono ecco le speranze mh mh che speranze ci sono qua da parte di questa persona quali sono le sue speranze se ne ha ovviamente eh nei tuoi confronti qui abbiamo un otto di coppe c'è ecco ancora una volta il due di bastoni e il sette di bastoni fondo mazzo abbiamo le sue speranze sono legate all'opportunità di ritornare di nuovo al video quello che vi dicevo prima quel video fatale eh per eh in qualche modo ancora una volta qua si vede col sette di bastoni eh praticamente ecco avere la discussione per vincere per dirti guarda che c'ho ragione io quindi qua c'è stato questo allontanamento quindi magari ecco questa persona spera di mettere da parte quello che è successo finora mh per riprovare ma sempre con le stesse modalità alla fine siamo nella ruota del crigeto non so se rendo l'idea eh eh questo è un problema vediamo un po' quindi queste sono le sue speranze vediamo quali sono ecco le sue paure è come se ci volesse riprovare questa persona ma se non ha capito quelle cose lo rifarà non diciamo ecco con malignità per carità si vede che c'è qualcosa qua con quella con quel video che come dire ecco un tallone di Achille per questa persona secondo me da quello che mi arriva probabilmente questa persona effettivamente avrà avuto eh premonizioni o letture o diciamo rivelazioni rispetto alla sua vita sentimentale eh che considera talmente determinanti che poi in qualche modo ecco questa persona cerca di eh cambiare se vogliamo ecco la sorte ops guarda un po' addirittura sei di coppe e abbiamo anche il la carta del degli innamorati l'arcano maggiore degli innamorati uh qua abbiamo anche il dieci di bastoni a fondo mazzo l'imperatore eh qua vedi le paure sono proprio ecco legate all'innamoramento un po' all'innamoramento quindi a scegliere te come dire in questo senso come partner e a lasciarsi proprio ecco andare nei sentimenti nell'amore ad abbandonarsi e quindi è come se questa persona no fino ad oggi avesse avuto un po' come dire ecco il freno non dico tirato ma hai presente come quando non si lascia andare vuole avere il controllo no perché eh qua ci sono ecco delle cose ecco pregresse del passato di questa persona ricordi che possono essere ricordi che sono legati a te ma possono anche essere eh ricordi legati a quando lui è stato in qualche modo ecco innamorato e magari ecco eh non era poi così felice no non era poi così felice uno riusciva ad accontentare come dire ecco il partner viveva una situazione sempre instabile sempre con una certa scontentezza quindi aveva la necessità di fare come dire ecco sempre la mossa giusta per e quindi ha integrato questo tipo di atteggiamento anche di controllo proprio per mantenere in qualche modo ecco eh una sua stabilità un suo equilibrio sono cose del passato queste cose in qualche modo ecco l'hanno portato letteralmente se vogliamo ecco al capolinea perché comunque vedi il dieci di bastoni è una carta che parla di stanchezza di pesantezza di eh senso come dire ecco di una pressione forte anche a livello emotivo nervoso no quindi questa persona ha anche paura della della relazione è troppo scottato per motivi suoi del passato eh può essere che qualcosa gliel'hai triggerata in questo senso anche tu ma principalmente ancora una volta abbiamo qua a fondo mazzo vedi il due di bastoni proprio perché magari ecco eh ripeto per qualcuno di voi si può trattare proprio di questo è stata macchina veramente proprio qui sotto deve fare le proprie tecniche dei pit stop della formula 1 scusatevi ehm può essere veramente che questa persona abbia saputo abbia avuto delle rivelazioni in questo senso legata al suo eh destino sentimentale e questo lo condiziona molto anche o soprattutto ora con te mh e ne ha paura perché evidentemente sa delle cose vorrebbe che quelle cose lì come gli sono state predette non accadessero allora prima che accadono dici quando io subodoro questa cosa qua già me ne scappo ok vediamo un po vediamo un po vediamo un po allora cosa possiamo chiedere cosa possiamo chiedere vediamo se questa persona è ancora disposta a farsi coinvolgere se questo è ancora uno dei suoi obiettivi se fa parte delle sue intenzioni eh qui abbiamo la papessa qui abbiamo eh il fante di coppe e abbiamo il fante di bastoni a fondo mazzo abbiamo il fante di spa tutti i fanti quindi quindi quando ci sono i fanti comunque sono carte legate a cose che iniziano ma anche a cose eh che possono avere una certa volubilità no tant'è vero che avanti a tutti abbiamo la papessa che comunque vede una carta che ci parla anche di studio di silenzio di attesa quindi ancora le carte ci dicono se è disposta a farsi coinvolgere eh ancora questa persona lo sta valutando sta guardando dentro di sé sta cercando di vedere quelle che sono le sue stanze interiori probabilmente sta pure cercando di ricontattare quella persona che ha fatto quelle previsioni chissà fatto sta che si vede che comunque questa persona ha messo in conto diciamo ecco dalle delle tante varie la possibilità di eh contattarvi eh o di incontrarvi eh o anche eh nel caso ecco di eh manifestarvi se è possibile diciamo ecco delle scuse diciamo cose piccole eh niente cento mazzi cento cento rose e rosse questo deve essere chiaro sta proprio ecco col freno anche in questo caso tiratissimo per ora ovviamente le energie sono eh mutevoli quindi è come se fosse ancora no trattenuto però eh vuole stare nelle sue sicurezze vuole capire ecco delle cose tra l'altro la papessa comunque come avevamo visto in quella carta lì dove c'era la tavola Ouija è anche legata alla chiaroveggenza è legata ai doni spirituali eh lì dove ci sono ovviamente perché se non sono quelli sono altre cose e quindi ecco magari ecco questa persona probabilmente ha per obiettivo vedere se ci sono ecco delle novità dal punto di vista ecco sentimentale magari attraverso una lettura magari attraverso ecco un consulto magari attraverso ecco eh ancora una volta il ricorso se vogliamo a a diciamo ecco delle risposte in qualche modo ecco che vanno eh oltre diciamo il venirla a chiedere a te fondamentalmente no quindi quindi sta per obiettivo principalmente questo vediamo questa persona cosa sta evitando visto che è tutto col freno tirato cosa sta evitando per il momento questa persona cosa sta evitando cosa vuole evitare allora qui abbiamo il fante di bastoni abbiamo anche l'otto di coppe ok abbiamo anche il dieci di bastoni abbiamo il giudizio allora questa persona però la sta evitando proprio diciamo ecco eh il contatto come dire ecco di eh oggi non ci facciamo mancare niente allora sta evitando quelle cose lì che ti dicevo prima che stava valutando con la papessa per ora le sta evitando ehm anche come dire commesso da parte se vogliamo in un certo senso ecco la sua emotività perché magari prima ha delle cose come dire ecco che già ha già problemi per i fatti suoi questa persona no quindi sta evitando di eh come dire ecco rientrare eh nella ruota del criceto con te eh perché sa che va ad appesantire ancora di più il rapporto potrebbe appesantirlo ancora di più quindi in qualche modo questa persona sta evitando di rifare le stesse cose di prima ecco perché era in quella fase di studio quindi per ora se questa persona non vi contatta non vi cerca ecco non fai non vi dice è proprio perché ehm lo sta facendo per il suo punto di vista per non peggiorare le cose mh allora vediamo un po quali sono i fattori ambientali mh che condizionano questa persona se ci sono allora qui abbiamo un otto di un otto di pentacoli allora abbiamo anche un re di spade abbiamo anche un quattro di denari allora allora il fatto è questo questa persona sa che comunque ecco per avere o per fare ecco una scelta di vita ecco sentimentale che possa per abbandonarsi i sentimenti per avere in qualche modo ecco eh una sicurezza sua eh rispetto anche a un suo destino sentimentale no sa che ci sono delle cose che mancano eh i fattori ambientali sono legati al fatto che questa persona potrebbe avere problemi di lavoro o potrebbe avere problemi finanziari fondamentalmente potrebbe avere poche risorse in questo momento ecco da eh investire in una relazione appagante quindi eh si rende conto e ha già realizzato ecco quali sono i fattori eh che insistono anche in questo rapporto che ehm ci sono state delle conseguenze nella sua vita diciamo ecco per determinate cose no per determinate azioni per determinate cose eh e quindi è come se dicesse io prima mi devo sistemare delle cose devo mettermi come dire ecco la testa a posto devo in qualche modo ecco eh fare le cose con criterio con intelligenza non mi posso più permettere di fare errori e di eh subire le conseguenze di determinate scelte sentimentali che possono essere scriteriate a maggior ragione che eh non ho molto da investire nella mia vita non tanto non solo per i sentimenti ma soprattutto per le conseguenze finanziarie eh lavorative che investono diciamo in qualche modo quella che è la sua stabilità e la sua capacità di impegnarsi eh nei rapporti in generale diciamo ecco perché come se dicesse io devo avere controllo devo avere tutta la partita ben chiara quali possono essere le mie possibilità devo conoscere diciamo ecco in qualche modo ecco le regole questa persona si deve mettere la testa a posto e deve anche sistemare delle cose della sua vita raggiungere una certa stabilità eh e al momento queste cose non le ha non le ha questi sono i fattori ambientali quindi potrebbe avere un lavoro precario o lavori alti e bassi o molte spese che poi ecco alla fine del mese diciamo ecco non arriva diciamo con molti risparmi quindi non ci sono molte cene molte possibilità di corteggiamento in questo senso da poter condividere potrebbe avere molte cose da pagare allora vediamo gli aspetti legati alle altre persone se ci sono ok qui abbiamo la forza sempre sto dieci di bastoni e poi abbiamo il sette di denari a fondo mazzo abbiamo questa regina di coppe quindi qua stiamo parlando di persone con la quale ci sono effettivamente dei legami diciamo ecco affettivi altre persone significa che questa persona sta aspettando sta aspettando di essere più forte sta aspettando di essere più forte in merito a delle cose che che sono per quanto gli riguarda opprimenti quindi sta aspettando risposte sta aspettando esiti di cose importanti sì sì ma sì sono questi problemi sono principali non solo quelle cose là che avevamo visto dal punto di vista finanziario ma evidentemente questa persona deve prima di tutto riprendere recuperare le forze che al momento non ha totalmente proprio perché deve prima sistemare con delle cose con persone con la quali ha avuto una vita affettiva e quindi quando si sentirà in questo senso di essersi sgravato di tutti questi problemi penso che sarà più pronta in questo senso ecco per i cambiamenti di una vita sentimentale diciamo ecco senza tutti questi vincoli che ci sono fino adesso quindi questa è una persona che ha già di suo tanti problemi allora vediamo un po chi sono queste altre persone facciamo un po di chiarezza perché se avete notato è sì qua ci sono ecco sì 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 qua ci sono cose legate ad una casa cose legate sia ad una casa cose legate sì sì infatti aspetta delle novità questa persona aspetta delle novità aspetta che magari gli vengono restituite delle cose probabilmente potrebbe dover rientrare in possesso di una di una casa ci potrebbero essere anche cose legate per esempio ecco a dei figli di che cosa parla questa forza tre di bastoni cose legate al futuro sì da tutto questo da tutte queste cose che deve risolvere questa persona quindi azioni in qualche modo ecco anche in questo caso vedi disoneste qualcuno che probabilmente gli ha sottratto dei beni potrebbe essere cose legate ad una casa quindi questa persona aspetta che ci siano novità quindi se risolve queste cose avrà più forza o si sentirà più forte dipende tutto da questo se questa persona riesce in qualche modo a ottenere non dico giustizia ma quanto meno che gli vengano restituite diciamo ecco cose che al momento anche l'hanno ridotto se vogliamo a momenti anche di difficoltà ripeto economiche di problemi diciamo ecco come ti dicevo prima finanziari da tutto questo dipende letteralmente quello che è il suo futuro quindi anche questa persona è come se dicesse io non ho molto da offrire io non ho molto da offrire semmai risolvo queste cose qui allora vediamo un po' anche quelli che sono i fattori sconosciuti che insistono su questo rapporto vediamo un po' allora qui abbiamo un 4 di coppe abbiamo un 7 di coppe e abbiamo un fante di coppe fattori sconosciuti abbiamo anche a fondo mazzo un carro allora allora sono tutte carte di coppe quindi sono tutti fattori legati alla sfera emotiva alla sfera sentimentale quindi non abbiamo chiesto però sicuramente qua potrebbe essere questa una persona molto permalosa molto suscettibile che si fa i film che si immagina cose diciamo ecco che magari ecco non sono come se le sta immaginando e quindi si crea ripeto ecco un suo mondo come dire ecco illusorio immaginario anziché come dire ecco ad azione preventiva non so se mi spiego no quindi ci resta male per delle cose si fa i suoi film e non si confronta non si confronta va avanti per carità lui è proiettato molto all'andare avanti ma anche in qualche modo ecco a vincere a vincere potrebbe essere anche una persona in questo senso piuttosto supponente orgogliosa e permettetemi di dire anche immatura dal punto di vista sentimentale particolarmente ecco emotiva però mi viene anche potrebbe essere ecco come avevamo visto per qualcuno di voi che vedi sì c'è o c'è stato questo innamoramento ma è sempre stato come dire ecco sai quando lo tocchi e poi ti scotti e scappi più o meno così diciamo questa persona poi 100-100 in questo rapporto non c'è mai entrata perché ha altre cose che gli occupano totalmente la sua mente tante volte l'abbiamo visto questo 10 di bastoni allora vediamo un po' le azioni se ci saranno delle azioni da parte di questa persona sì sì ci sarà un avanzamento eh di destino quindi sì sì ci saranno queste novità ci sarà un avanzamento potrebbe essere ripeto un messaggino qualcosa sì sì questa persona sì vorrà un'opportunità o si darà più che altro ecco una opportunità sì sì però diciamo ecco beh ma non sarà molto come dire ecco gentile non sarà proprio con sai quando una persona ti chiede scusa perché capisce che si è comportato male anzi probabile che questa persona ti viene a dire eh tu non mi hai capito io avrevo bisogno della tua comprensione del tuo supporto ecco perché mi sono innervosito quindi giustificherà i suoi nervosismi le sue azioni la sua permalosità la sua suscettibilità con un atteggiamento se vogliamo anche con una certa irruenza se vogliamo con una certa anche in questo caso ecco permalosità quindi anche questa sarà una cosa da gestire ma perché perché comunque questa persona si vuole portare avanti ma qui non è tanto il punto cosa prova per te cosa non prova per te diciamo che questa persona a dire la verità non è libera non ha il cuore libero non ha il cuore libero perché ha dei pesi opprimenti quindi forse mi permetto ecco di dirvi anche se questa è una stesa generale un interattivo cioè non è interattivo perché non ci sono le varianti però una lettura diciamo ecco quasi personale ovviamente non può calzare a pennello per tutti per tutti voi che state a guardare questo video quindi se più o meno vi riscontrate in qualcosa del genere valutate l'idea di rivedere tutte queste cose attraverso un consulto personale ma il punto è uno quello che emerge qui secondo me è che semmai questa persona non si sbroglia quella matassa e quindi esce da quel 10 di bastoni che quindi ha quei problemi che lo opprimono che hanno in qualche modo ecco un peso specifico nella sua vita maggiore non gli rendono il cuore libero per entrare nell'amore sarebbe proprio il caso di specificare questo e di dire senti siccome io so che tu hai i tuoi problemi le tue cose quando avrai la serenità e il cuore libero per viverti questa relazione in una maniera totalmente diversa quindi senza quei gravami magari ecco ne possiamo riparlare sempre se me trovi libera però prima di allora non perché io non ci tengo a te ammesso che sia il caso diciamo anche di specificare queste cose perché questa persona non mi viene a parlare dei suoi sentimenti mi viene a parlare semplicemente del fatto che per colpa tua c'è rimasto anche colpa tua praticamente quindi quindi anche non come dire dare impasto come si suol dire le perle ai porci perché questa è un porco attenzione ma semplicemente perché questa persona potrebbe in qualche modo fare leva sui tuoi sentimenti quindi non esporre il fianco non viverla e vederla come una tua debolezza e magari aspettarsi proprio perché tu gli dici i tuoi sentimenti quindi qua non glieli devi dire non glieli devi dimostrare più avendo ben chiaro che questa persona in questo momento ha i suoi problemi e non sei tu il suo problema ce li ha per i fatti suoi quindi se ha questa indisponibilità di cuore per i fatti suoi è necessario che vada a risolversi i suoi problemi e tu per il momento te ne fai una ragione perché tanto se mai risolve quei problemi alla prima telefonata tra virgolette o dell'avvocato o di quello che è o dell'ex o di un figlio non so adesso di che cosa si tratta o degli amici o chissà in quali bag è coinvolto questa persona ovviamente va de matto anche con te e quindi che hai combinato che hai combinato non ti viene a dare niente a te perché è aggravato da quelle cose e poi ha sempre meno da dare a te e da te vuole tanto quindi si crea uno sbilanciamento bisogna essere col cuore anche libero e sgombro e non andare in una relazione perché in qualche modo ecco tu rappresenti un salvagente tu rappresenti come dire il 118 la croce rossa anche no anche no perché quella è una missione allora vai che te posso dire in Burundi perché questa persona non è il Burundi lì ci sono fattori come dire ambientali politici culturali tutto quello che volete soprattutto politici ma qua questa persona tenete da conto che lì dove è arrivata comunque ecco è perché quei nodi nella sua vita se li è creati da solo con quei comportamenti che abbiamo visto un po' troppo nervosi un po' troppo impulsivi un po' troppo poco ragionati con una certa immaturità allora vediamo il futuro di questo rapporto se è ventilato in questo senso è un futuro se le carte ci parlano di un futuro sì certo qua abbiamo il mondo addirittura ah sì ok va bene quando questa persona effettivamente va a completare tutte queste magagne che ha finisce con quella fase della sua vita chiude tutte le pendenze chiude tutte le situazioni nel bene e nel male nel bene come canta madame nella canzone di Sanremo praticamente questa persona effettivamente ridarà una nuova opportunità o riconsidererà questo rapporto come un'opportunità ma avendo come dire ecco un maggiore dominio di sé avendo anche una maggiore stabilità una maggiore forza sì sicuramente ecco tornerà a corteggiarvi tornerà a corteggiarvi ma anche per conquistarvi quindi ritornerà a far a darvi la caccia questo è sicuro tornerà a ridarvi la caccia perché questa persona vede in te la persona giusta con la quale avere un futuro vi vede come la compagna come la prossima partner per dire ufficiale la prossima mulieras ok quindi nutre in questo senso anche una certa passione un certo attaccamento tenendo anche da conto che sa che voi siete questa persona forte e che in questo senso il vostro essere così diciamo ecco è anche motivo di maggiore stabilità per lui quindi si vedono proprio questi aspetti io spero che questa lettura possa essere stata ecco importante ecco per voi possa avervi offerto degli spunti di riflessione mi sono un po' sentita abbastanza ispirata stamattina per andare in questa direzione e quindi va bene fatemi sapere come vi risuona eventualmente tenete da conto che le situazioni personali ovviamente vanno viste in separata sede e lì dove si sono viste le situazioni personali in separata sede ovviamente valgono quelle e non le letture diciamo che si vedono sul canale per chi ha già fatto i consulti personali ok va bene un bacione grande ci vediamo per un prossimo video a presto ciao